Ciao qui Liprandi e guardate un po' Sbavam ci ha mandato tutto un espositore della nuova collezione di Creature X, oppure Creature X, i predatori della notte, insomma una selezione di quegli animali che alla notte danno il meglio, quindi mi aspetto di trovarci anche la mia gattina Alberta che ha un potere distruttivo non indifferente, la collezione è fatta di bustone come quella che ho in mano, quindi piuttosto grandi, il prezzo di uno di esse è di 3,50 euro, indicato qua dietro, questa è la checklist di personaggi, quindi ne abbiamo tre che brillano al buio, poi qualcuno che cambia colore, credo un paio, ok, insomma ce n'è per tutti, non ci rimane che rovesciare l'espositore e aprire tutte quante le bustone contenute, bene diamo il via alle danze, dunque prima bustona, ci sarà qui l'apertura, ok, cosa c'è qui dentro? no, sì, ci sarà una card che mi dice qualcosa sull'animale, sì, abbiamo trovato l'orso, quello raro addirittura, perché è un Orbeez, cioè contiene un sacco di palline di gel, e qui naturalmente un sacco di informazioni sull'orso che abbiamo trovato, naturalmente il termine orso è un tantinello generico, ne esistono di diversissimi, come è fatto il nostro orso? ma è diverso come me lo aspettavo, strano, così è liscio, e anche il muso come glielo hanno scolpito è abbastanza insolito, ma insolito me lo aspettavo diverso, non è male, non è male per niente, e la pittura sul muso è anche più carina di come si è visto altre volte in giocattolini di questo genere, carino, mettiamolo qui da parte, passiamo alla seconda bustona, perché l'orso non credo abbia funzioni particolari, a parte quella di essere un Orbeez, quindi è raro, questo è sottile, potrebbe essere serpente, sì, infatti, e questo brilla al buio, forse si può intuire dal suo colore, non vedo l'ora di collaudarlo, dentro sono pieni di, credo semplicemente pieni d'aria, tutto molto morbido, squishy se volete, insomma, morbidissimo, possiamo schiacciarle ed allungarlo, la pittura, sì, diciamo che è approssimativa, il nostro serpentone, è bello ciccio ed è infatti un pitone, ecco perché era così grosso, ok, lui brilla al buio, ce ne dobbiamo ricordare, perché dopo collauderemo tutte quante le funzioni, qui, oh, vedo che forse è un altro serpente, è un'anaconda, e anche lei brilla al buio, quindi abbiamo già trovato due dei fosforescenti, vediamo l'anaconda, perfetto, è diversa dal pitone, direi, invece no, cambia il colore, il pitone l'hanno fatto giallo, l'anaconda verde, tutti e due dovrebbero brillare al buio, quindi lì con la daremo tra poco, abbiamo abbastanza buone speranze sulla capacità di brillare, poi qui abbiamo l'orso grizzly, che a differenza dall'orso di prima non è più un orbeez con le palline, ok, però possiamo vederlo di fianco al suo amico per scoprire che, insomma, è identico, ma è grigio, quindi si distinguono per il colore e poi per il contenuto, naturalmente, questo qui ha le palline, questo invece no, poi, lì, riconoscere l'orbeez al tatto potrebbe essere, magari, non troppo difficile, perché è più pesante degli altri, poi, che abbiamo qua dentro? Prima il foglietto, un po' di suspense, l'alligatore, grandioso, che cambia colore in acqua calda, quindi anche lui sarà da collaudare tra poco tutte le informazioni sul nostro alligatore, e ho capito che anche questo esisterà con un colore diverso nei panni di un altro animale, però è carino di per sé, è un peccato che ci sia questo riciclaggio, perché gli animaletti in sé non sono brutti per niente, carino questo alligatore, ed è un altro mostro, insomma, non è un mostro, è un animale vero, però che andrà benissimo con i nostri pupazzetti, se volessimo improvvisare qualche avventura nella palura con swanting, ad esempio, carino, quindi lui cambierà colore, no, testeremo fra poco, poi, chi è questo? Non è tanto allungato, troviamo qui, abbiamo trovato il facoccelo, un warthog, che bello il facoccelo, ed è insolito trovarlo in collezioni simili, per lui nessuna funzione particolare, solo quella di essere, beh, un facoccelo, carino, dunque, sto apprezzando decisamente la scultura di questa collezione, che è fuori dagli schemi, per quanto riguarda le serie simili che vediamo di solito, hanno queste forme così lisce, ma, buh, ben caratterizzate, carino, molto carino il facoccelo, mi è piaciuto, potrebbe essere fino ad ora uno dei miei preferiti, ma in generale sto apprezzando come li hanno scolpiti, poi, questo è più allungato, questo potrebbe essere il coccodrillo, esattamente, il coccodrillo è anche lui, cambia da colore in acqua calda, immagino che sia uguale all'alligatore, ma di un altro colore, lo verifichiamo subito, vale lo stesso discorso di prima, mi piace l'aspetto che hanno, mi piace come li hanno scolpiti, ecco qui, sono cuginetti molto simili, si distinguono per il colore, e vedremo con la funzione cambia colore in che cosa si trasformeranno, poi, via le cartacee, non avete idea del disastro che ci sia qui per terra, poi abbiamo il gorilla, mitico gorilla, mi piace un sacco il gorilla, e visto come hanno scolpito questa serie, sono proprio ansioso di vederle, il gorilla che c'è in questa busta, esce di qui, non mi aspettavo questo muso, allora, sulla fedeltà all'aspetto di un vero gorilla, non saprei, ma mi ricorda qualche mostro di film horror, anni, primi anni 80 forse, insomma, non so quanto ricordi un vero gorilla, ma mi piace come mostro di ciattolo, molto, molto insolito, carino il nostro gorilla, va bene, mettiamolo qui a fare amicizia con i suoi colleghi, coccodrillo e l'alligatore, qui abbiamo la pantela nera, anche lei senza funzioni particolari, poi, ecco il nostro gattone, ok, riesco a vedere dal muso che hanno cercato di caratterizzarla proprio come pantela, liberiamo la coda che è laterale e gambe, curiosa la nostra pantera, insomma, hanno una scultura insolita, questi mostriciattoli, questi pupazzetti, ed è qualcosa che apprezzo molto, perché alla fine si tratta di serie, insomma, tutte molto analoghe, molto simili, e caratterizzarla con uno stile di scultura, le dà effettivamente qualcosa in più, qui abbiamo il pipistrello vampiro, grandioso, quindi siamo nel mondo dell'horror, io probabilmente ne vado matto, pipistrello vampiro, anche qui della checklist abbiamo conferma, del fatto che non ci siano funzioni particolari per lui, lui è più magrolino degli altri, più piccolino, quindi se andate a tastare le bustine dall'edicolante, dovrebbe essere facile da riconoscere, a parte questa decorazione bianca sul petto, che è così semplificata, il pipistrellino è un mostriciattolo molto divertente, il pipistrello in gomma è un altro giocattolo tradizionale, per il fratellino che vuole spaventare la sorellina, e quello che abbiamo qui non è niente male, le ali hanno una bella apertura molto molto morbide, e mi piace il musetto, ma io non so che verso faccia un pipistrello, quindi siate comprensivi, poi cosa abbiamo qui, fuori dalla tua prigione di busta, il leone, mitico leone, il re della foresta, come l'hanno scolpito, ok, dunque, lo stile di scultura è coerente con quello degli altri, sul leone rende un po' peggio, perché ha questi spaghetti al posto della criniera, ma insomma, non maraccio, come sono affinati questi artigli, riguarda solo l'aspetto, ovviamente non pungono per niente, perché è tutto quanto è una gomma sofficissima, guardate, sono perfettamente allungabili, il nostro leone, naturalmente non sto leggendo tutte le informazioni che sono scritte nei loro foglietti, ma voi che li collezionerete potete conservare questi, perché insomma, le informazioni sono sempre, sempre una cosa buona, poi, prendiamo anche questo, e abbiamo il lupo, uh, qui ho delle buone speranze, che sia qualcosa di adattabile ad un mondo di lupi, mannari e mostri per i miei giocattoli, anche per lui niente funzioni particolari, sì, mi piace il lupo, uh, mi piace il lupo, guardate che coda che gli hanno fatto, insomma, mi limitano qui, ma, mi è piaciuto, mi piace questo lupo, bello, una bella coda molto folta, e il pelo tutto arruffato qui sulla schiena, bello lupo, abbiamo ancora due bustone da aprire, e poi non scappate, perché dobbiamo ancora quello da nelle funzioni speciali, direi che dobbiamo ancora trovare, il lupo artico, che sarà probabilmente uguale a questo, ma fosforescente, infatti ecco qui il lupo artico, beh, 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 questo potrebbe essere il mio preferito della collezione, perché il lupo mi piaceva molto, e questo brillerà al buio, tutto bianco, non vedo l'ora di collaudarlo, mi piace il lupo bianco, ok, mettiamolo qui, ultima bustone, e poi passiamo, beh, con l'audo delle loro funzioni, e direi che abbiamo trovato, un altro pipistrello, quindi, si tratterà del, pipistrello e basta, non il pipistrello vampiro, presumibilmente identico all'altro, la differenza del colore, infatti, questo qui, è marroni, invece che è nero, e come me l'ha piaciuto l'altro, mi piace anche questo, in realtà, molto carino, voilà, li collerò sul petto, per farvi i costumi di Batman, guardate, un pochino l'effetto di questi mostriciattoli così morbidi, sempre così realistici, quando ve li muovete tra le mani, un altro dei sogni che avevo da bambino, era quello di animare pupazzetti simili, per fare effetti speciali, naturalmente, niente di tutto questo si è avvelato, ma, nel tempo libero, possiamo sempre cercare di ritagliarci, un momento per noi, e giocare come se avessimo 8 anni, allora, qui abbiamo tutti i nostri animali della notte, non ci resta che collaudare le loro funzioni speciali, e possiamo iniziare dalla funzione che mi diverte sempre di più, abbiamo il lupo artico, che non sta tanto bene in piedi, dovuto appoggiarla a qualcosa, ma le zampette un po' flosce, e poi il pitone e l'anaconda, che dovrebbero brillare al buio, allora, come sempre, noi cerchiamo di caricarli per bene, ho portato anche una speciale, lucetto ultravioletti, per cercare di caricarli al meglio, soprattutto il mio amico lupo artico, perché da lui mi aspetto molto, sarò molto esigente, e poi anche i due serpentoni, ok, adesso, beh, non ci rimane che spegnere tutte quante le lampade, e la prima, ok, carichiamo tutto quanto il più possibile, via la seconda lampada, ok, e adesso via anche questa, wow, brillano, non brillano, brillano, guardate anche se è là dietro, da questa parte del lupo, quindi non ha preso tanta luce, brilla comunque moltissimo, spettacolari, insomma, un lupo, internamente fosforescente, niente male, sono contento, poi, carichiamo ancora per bene i due serpentoni, la differenza di colore, al buio, non si nota più tanto, sono semplicemente diventati luminosi, carino lui, e ancora questo qui, che ha bisogno di essere ricaricato ancora un pochetto, e anche lui brilla bene, perfetto, proseguiamo con i nostri test, perfetto, qui abbiamo un piatto, e poi la tazzona che uso tutte le mattine per fare colazione, non ho intenzione di mangiarmi il coccodrillo, però è che devo proteggere il nostro fondale azzurro dall'acqua, qui dentro c'è un po' di acqua molto calda, immergiamo il coccodrillo e l'alligatore per vedere come cambiano colore, iniziamo dalla coda, tanto poi gli ricresce, era una battutaccia, non è vero che ricresce la coda dei coccodrilli, uh, per ora non vedo cambiamenti, a meno che forse, forse, forse sta diventando tutto un pochino più rosso, forse sì, eh sì, basta avere un pochino di pazienza e lasciarla a mollo, e guardate un po', è diventato praticamente rosso, non so se sia il suo colore naturale, ma il cambiamento di colore ha funzionato, mettiamo qua un asciugamano, sempre per proteggere tutto quanto dall'acqua, immergiamo anche il muso, e mettiamoci anche dentro il suo amico, lasciamoli a mollo un po', perché abbiamo capito che il cambiamento non è immediato, non è velocissimo, intanto la coda è il nostro, quello chi era? Quello era l'alligatore, credo, è ancora rossa, cosa succede invece al coccodrillo? forse sta diventando un pochino più azzurrino, l'acqua è bella calda, perché mi sto quasi scottando, mettiamo da parte lui, vedete il suo musone anche è diventato rosso adesso, quindi funziona, non è un cambiamento molto drastico, ma funziona, e tu invece? Che fai? Sei timido? cambia, 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 e il capitano uncino sarà contento di vedere che è tratto così male il coccodrillo, allora, non sono sicuro di vedere cambiamenti, qui ci sarà qualcosa, ma un cambiamento molto molto vago, tenderà un pochino più all'azzurrino, una volta immerso nell'acqua calda, però non è un gran cambiamento, e questa è la nuova serie di Criciul X di Sbabam, i predatori della notte, bustone da 3,50 euro luna di animali che alla notte danno il meglio, non sapevo che fosse così anche per i gorilla ad esempio, ma non importa, sono animaloni gommosi, alcuni fosforescenti che funzionano molto bene, altri che cambiano colore, più o meno io non sono riuscito a vedere cambiamenti, stupefacenti, ma nel complesso mi sono piaciuti, perché apprezzo molto lo stile delle sculture, non vado amato per gli stampi riciclati, ma alcune sculture mi hanno divertito molto, vale soprattutto per il lupo, per il facocero che è qua dietro, ma merita un bel primo piano, ed anche per l'orso ed il coccodrillo, non dimentichiamo il coccodrillo, ho apprezzato molto la loro forma, mi raccomando voi fateci sapere che cosa ne pensate, nei commenti qui sotto, noi cerchiamo sempre di rispondere a tutti, anche i gorille d'accordo, grazie mille di cuore a Sbabam, per questa ennesima opportunità, mi raccomando se il video vi è piaciuto, potete cliccare su mi piace, condividerlo, farci vedere a tutti, potete seguirci anche su Facebook, su Instagram, e iscrivervi al nostro canale, ciao!